andiamo ora a vedere come realizzare lo schema per la realizzazione di questo top per riuscire a realizzarsi questo top bisogna partire dalla base di un corpino adesso ve lo spiego come si fa a costruirsi per prima cosa la base dell'abito a tubino che ci servirà appunto per la realizzazione del nostro top devo prendere per prima cosa un foglio